Non c'è modo migliore di concludere la giornata che con un sonno ristoratore, ma non sempre il giaciglio che scegliamo è ideale. È possibile riposare bene e in modo naturale? Trovato! Super di Dorsal è il supporto anatomico che da oltre 40 anni è l'amico infaticabile del buon riposo. Lo dimostrano i severi test di resistenza e durabilità. Super ha sostenuto fino a 400 kg di peso. È praticamente indistruttibile! Scopri il mondo dorsal. Riti, materazzi e guanciali per un vero riposo di natura. Ideale per tutta la famiglia.